Inchiesta sul reparto chiuso all'ospedale del Mare di Napoli. Dopo la sospensione, la ASL revoca l'incarico al primario che aveva invitato i dipendenti alla sua festa per la nomina. Gabriella Capparelli. E questo è il documento con cui la direzione generale dell'ASL competente ha revocato l'incarico a Francesco Pignatelli, primario di chirurgia vascolare dell'ospedale del Mare di Napoli, per i gravi fatti di cui si è reso responsabile che hanno leso irrimediabilmente il rapporto di fiducia, si legge nella delibera. Per Mario Forlenza, direttore dell'ASL Napoli 1 Centro, a ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia è stata la chiusura del reparto diretto da Pignatelli in concomitanza della sua festa per la nomina in un locale di Pozzuoli. Il DG aveva subito ordinato un'ispezione interna e un'altra era stata avviata dalla direzione sanitaria dell'ospedale. Secondo quanto emerso dalle due relazioni, le responsabilità del Dottor Pignatelli sarebbero gravi. La chiusura del reparto, scrivono nella nota, non è dovuta a una coincidenza, ma come sembra si tratta di un fatto preordinato per la concomitanza dei festeggiamenti del primario. Ci sono altre due indagini, una affidata ai NAS, l'altra agli ispettori del Ministero. Inoltre l'Ordine dei Medici di Napoli ha convocato il primario per ascoltarlo e prendere eventuali provvedimenti, mentre il cantante Eugenio Bennato scende in campo in difesa del Dottor Pignatelli.